Ok, questo è il trofeo di Verago, Marco di Verago un passo e Cristo starà dietro con i tuoi calci, cioè, che ti fai? Andiamo qui! Che c'è luce? Va, io, mi raccomando! L'ulminatore! Oh, aspetta, ci siamo! Fai, vai! Ragazzi, stoppa! Dipravate, parte, parte! Altro stop, si si ferma! Alta la macchina, forma destra, sinistra, destra, una S, dritto, prende il video, ripeto e ti ferma ragazzi! Qual è il combattro? Destra ragazzi, destra! Senti, senti ragazzi, tutti i 10, bello ragazzi! Senti, gritti! Tutta festa! Destra ragazzi, impeccuosa! Macchina davanti! E ti saluta! E ti va dentro l'oratorio! Ma che curva secchissima! E si va! Listo, paura! Ci si viene! Paura! Il cazzo sta volando! Ho già la macchina davanti! Curva destra! Rettilineo! Rettilineo! Ma che cosa è che cosa... Dosto! Sta qua! Tutto! Prenata! Impetuosa! Del guidatore! E qua! Siamo tutti morti! Tutto!